In cinque anni la crisi ha raddoppiato il numero dei poveri in Italia. Nel 2007 erano 2,4 milioni, il 4,1% della popolazione, mentre nel 2012, secondo gli ultimi dati disponibili, vivevano in povertà assoluta 4,8 milioni di italiani, l'8% del totale. È quanto emerge dal rapporto della Caritas, il bilancio della crisi presentato a Roma. La presenza della povertà ha allargato i propri confini, andando a colpire in misura significativa fasce della popolazione sinora poco toccate, rileva la Caritas. Il rapporto analizza anche le misure messe in atto negli ultimi anni dai governi per contrastare la povertà. Quanto al bonus di 80 euro mensili introdotto dal governo Renzi, ha avuto per la Caritas un qualche effetto sulla povertà, ma di portata assai ridotta, come mostrano le stime sia sulla sua diffusione, sia sulla sua intensità.